buongiorno buongiorno qui da Matteo Barberi oggi in questo video voglio presentarvi la nostra social masterclass eleva il talento con ogni fischio oggi parliamo esattamente di che cosa è questa questa masterclass sono una serie di webinar mensili che terrò direttamente io e con la partecipazione di amici coinvolgerò ovviamente un po la rete con il quale io lavoro da coach ad allenatore istruttori tecnici per permettere a te che sei allenatore o padre che vuole diventare un coach con ottenere i risultati che lui vuole cioè far sì che a fine anno i vostri ragazzi o tuo figlio abbia una capacità di gestire meglio le proprie interferenze le proprie preoccupazioni del proprio stress facendo le piccole chicche in modo tale da cominciare ad avere un attimino una padronanza del mondo dell'allenamento mentale ed è questo l'obiettivo abbiamo creato io e il mio team e amici una serie di format con i quali chiunque può accedere oggi ad acquisire una consapevolezza poi sta lui dove vuole arrivare ma la domanda che io faccio a te qual è tu tra un anno voleste ancora essere qui al punto di partenza e non aver fatto nulla per migliorare la situazione vuoi agire o aspettare gli eventi questa è la domanda quella devi rispondere tu ora se tu però sei un padre un attore che sa che l'ottantacinque per cento dei risultati e delle performance arrivano dall'allenamento mentale ora sei nel posto giusto abbiamo creato questa social masterclass e di permetterla di vedere tanti temi andremo a trattare la gestione dello sto emotivo vedremo l'ansia pre gara e post gara vedremo la gestione del tempo come priorità nella gestione degli allenamenti vedremo come gestire il recupero da infortunio da un punto di vista mentale parleremo di miglioramento della forza mentale parleremo della gestione dell'errore tante cose che noi andremo a fare insieme per poter dare degli input e delle strategie valide ora detto questo cosa devi fare caro genitore e caro allenatore qua sotto travi il link ti scrivi ai webinar e avrai accesso mensilmente a un webinar poi tra virgolette decide di venire di disdire di non farlo libertà totale il web è così per fortuna mi scrivono poi non voglio più venire non faccio chiudi ok questo è il mondo digitale chi non lo interpreta così è perché non vuole il vostro bene vuoi disdire ciao qui veramente stiamo parlando di due lire sostanzialmente per partecipare ma perché lo faccio perché più consapevoli siete voi più la mia mission che è migliorare le persone che sono fuori dal campo chi è migliore fuori dentro abbiamo il top che meritano i vostri figli e ragazze dei vostri allenatori grazie da matteo barberi e per adesso noi ci vediamo alla prossima con il corso voglio vedervi online